Ci sarebbero due persone indagate dalla procura di Grosseto per gli incendi che stanno colpendo la provincia in questa estate. Nel fascicolo riunito dal pubblico ministero Alessandro Leopizzi sono confluite le tre inchieste aperte sui roghi di Castiglione della Pescaia, quelle che hanno colpito la Piana e la Pineta di Principina e gli altri della provincia. Da quanto si apprende, gli indagati però sarebbero sotto osservazione solo per i piccoli focolai che vengono accesi ogni giorno. In poco più di un mese sono stati oltre 400 i roghi, l'ultimo la notte scorsa nella Pineta di Principina a Mare, dove è bruciato circa mezzo ettaro a due passi da Piazzale Tirreno. Sul posto i vigili del fuoco di Grosseto con 10 unità. Le fiamme erano visibili a molti chilometri di distanza. Anche in questo caso è probabile che le fiamme siano dolose. In tanti comunisti italiani auspicano l'impiego di soldati a Grosseto per l'impattugliamento delle Pinete, zone boschive 24 ore su 24, ha detto Marco Barzanti.